Il primo snodo di un ciclo decisivo, quattro partite in 12 giorni, il derby di Ascoli ma soprattutto tre scontri diretti. Subito il Lecce, mercoledì prossimo il Palermo in casa, venerdì 12 aprile, l'anticipo con la Perugia sempre all'Adriatico, enfatizzando otto finali. A Lecce Pillon ritroverà tre pezzi fondamentali del suo scacchiere, Campagnaro, Brugman e Mancuso. Pronto l'accorgimento per sfruttare tutto il potenziale del capitano, un centrocampista in più, Bruno, deputato a coprire le spalle dell'uruguaiano. Un po' come con Marino nel 2013. Meno compiti di copertura e più libertà di movimento per Brugman con la possibilità non solo di impostare ma anche di rifinire e concludere l'azione. Ai lati Lex Memusciai e Crecco, davanti Marras alle spalle di Mancuso, Pillon. Al di là dei numeri sostanzialmente Brugman non sarà un vero e proprio trequartista, avrà la possibilità però di muoversi più liberamente, sgravato da compiti di copertura, perché avrà alle spalle Bruno. Sì, credo che in quel ruolo Brugman possa essere molto molto importante, poi è solo la verifica del campo che ci dirà se sarà giusta, se sarà sbagliata, se avrà fatto una cavolata, però io credo che potremo far bene così. Novità sostanziale, l'esordio assoluto di Giovanni Pinto. Finora zero minuti in campionato per il classe 91 ex Ascoli, arrivato a gennaio dal Parma. Sarà preferito a Del Grosso e a Gravillon. Sul lato opposto invece Ciofani, favorito su Balzano. Per dirla con i numeri, una sorta di 4-1-3-2. Sa bene adesso, in questo momento fisicamente, anche grazie al lavoro di questi 15 giorni, è stato importante questo per lui. Adesso è in condizione di giocare. Mister, il Lecce è una squadra che palleggia bene, riempie benissimo l'area avversaria con gli attaccanti, ma anche con l'inserimento dei centrocampisti. E poi è una squadra molto abile e strutturata nel gioco aereo, no? È indovinato tutto, nel senso che tutte queste caratteristiche ce l'hanno, giocano un ottimo calcio, sono molto propositivi, attaccano con tanti giocatori. È una squadra che in questo momento è in grandi condizioni, sia fisica che mentale, visto le prestazioni che hanno avuto. Però ci siamo anche noi. Lecce, terzo in classifica sulle ali dell'entusiasmo dopo la clamorosa e debordante 7-0 sull'Ascoli nel recupero di sabato scorso. Fuori gli ex Bavo e Fiamozzi, ha recuperato Palombi, ma Liverani sembra intenzionato a confermare tutti. 4-3-2-1 il sistema di gioco. Vigorito, Trepali, Lex, Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni in difesa. Tabanelli, Taxidis e Petriccione a centrocampo, sulla tre quarti Falco, altro ex e Mancoso alle spalle di Lamantia. C'è una possibilità per allontanarli, però affrontiamo una squadra forte, quindi sappiamo che sarà uno scontro diretto, sappiamo che troveremo una squadra che ha voglia anche di avvicinarsi. Ha sempre partecipato ai play-off, credo tranne l'anno scorso, negli ultimi 5-6 anni, e quindi vuol dire che è una società che negli ultimi 5-6 anni ha stazionato sempre o nei piani altissimi della Serie B o addirittura ha fatto la Serie A, quindi ci sono ancora giocatori che vengono da quelle annate e quindi hanno delle qualità importanti. Bisogna andare lì e cercare di fare gol, perché credo che la partita non finirà certo 0-0, se lasci giocare loro vai in balia loro, noi non dobbiamo permettere questo, noi dobbiamo cercare di giocare le nostre armi, che sono il gioco che abbiamo sempre cercato di fare, alle volte ci siamo riusciti, alle volte no, come ho detto precedentemente, però questa è l'intenzione della partita. Una curiosità, in fase di un possesso, chi andrà a schermare Taxidis? Marras oppure magari si alzerà uno dei centrocampisti? Bella domanda questa. Sì, no, l'idea è quella che va sempre un giocatore su di lui e l'altro sui tardi più di movimento, perciò l'idea è quella. Non mi guardo troppo indietro e analizzo il presente, quindi non c'è una vendetta per quello che è successo quattro mesi fa o cinque mesi fa, c'è una partita importante con una squadra che vogliamo provare a vincere, vogliamo giocare per vincere come facciamo sempre, sapendo che però c'è anche un avversario di qualità, quindi questa è la mia concentrazione su quello che ci possono creare come difficoltà. Queste sono le preoccupazioni, non c'è una vendetta perché comunque non credo che sia dovuta né al Pescara, è stato un episodio in quel caso sbagliato verso di noi, capita.